Primo match point per la finale scudetto fallito per Litas Trentino. In gara 3 della semifinale la squadra di Lorenzetti, che contro i pronostici si era portata avanti per 2-0 nella serie, ieri sera Civitanova ha perso per 3-0 sul campo dei campioni della Lube. Litas non è sembrata quella pressoché perfetta delle due precedenti partite e la Lube al contrario ha ritrovato concentrazione ed energia. Trento è sempre stata costretta a rincorrere e non è mai riuscita a replicare colpo su colpo come invece è accaduto nelle precedenti partite. 25-16, 25-19 e 25-17 i parziali del match. Si torna a giocare domenica alle 18 alla BLM Group Arena di Trento con Litas che ancora una volta avrà la possibilità di staccare il biglietto per la finale. Ma sentiamo quindi i commenti del post partita nelle interviste a Oreste Cavuto, Mattei Kazinski e al mister Angelo Lorenzetti. Per loro era l'ultima spiaggia, noi sapevamo che era così e hanno spinto in battuta per 3-7 commettendo pochissimi errori, hanno cambiato qualcosa tatticamente rispetto alle altre partite che seppur 2-3-0 però erano state partite molto tirate. È stata una partita difficile e secondo me non siamo riusciti a giocare il nostro gioco, siamo stati sempre lì a seguirli perché loro battevano forte, attaccavano forte, difendevano tantissimo. Si vede che erano più preparati di noi di questa partita e adesso cerchiamo di prepararsi noi per la prossima. C'è da pensare anche che è iniziata una nuova fase di questa semifinale perché ovviamente oggi loro prendono fiducia e l'importante è che non la perdiamo noi però sappiamo che di là il livello è cresciuto.